Una bellissima partita con due squadri che potrebbero anche visti i risultati delle altre partite e anche la finalissima del torneo. Il Paese Alto sicuramente adesso è primo in testa della classifica, mentre sarà difficile che non arrivi secondo Marino, perché il Paese Alto dovrebbe pareggiare o perdere addirittura con salaria, quindi soddisfatti? Sicuramente soddisfatti, tre partite e sette punti, nei primi due abbiamo vinto, stasera è stata una bellissima partita con una squadra sicuramente ben attrezzata, ci siamo divertiti, quello rimane sempre la cosa più importante, faccio i complimenti all'avversario che è qui. Non mi è sembrato un po' di nervosismo eccessivo, scusa, una domanda che facciano entrambi. Quando comunque la posta in palio è importante, un po' di nervosismo penso che faccia parte del gioco, quindi tutte le squadre vogliono far bene, ma non vincere è il nervosismo giustificato, dai. Giustificato il nervosismo? Sì, ci sta, alla fine due buone squadre, quindi ce la siamo giocata fino alla fine e ci sta, quando si gioca fa parte del gioco. Sì, dopo due sconvitte di fila voi pensavate di... Ci siamo complicati un po' la vita all'inizio del torneo, quindi adesso paghiamo questi errori iniziati. Dunque, auguri anche personalmente le prestazioni di voi due perché sono state la migliore che da noi. Grazie, grazie, grazie. Grazie, vedersi.